È ormai soltanto questione di ore. Poi, dopo la conferenza delle regioni, il governo dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza. L'attuale situazione di siccità che sta colpendo tutto il territorio è estremamente grave. Per questo motivo sarà condiviso un percorso con le regioni per sostenere il comparto agricolo e per risparmiare più acqua possibile. In Toscana l'autorità idrica ha invitato i comuni di tutte le province ad adottare un'ordinanza per il periodo estivo con il preciso obiettivo di evitare irrazionamenti. Le amministrazioni sono state invitate a disporre fino al 30 settembre la limitazione dei consumi di acqua e soli scopi essenziali domestici e igienici. Fortunatamente, finora in Toscana gli invasi di Bilancino e Montedoglio, i due principali bacini di riserva, comunque non sono a secco. Attualmente le zone della regione più colpite dall'emergenza sono la Maremma, la Val di Corni, l'Isola d'Elba, l'entroterra della Versilia e la Lunigiana. Coldiretti, nel frattempo, sottolinea l'urgenza di avviare un grande piano nazionale per gli invasi, accanto a misure immediate per garantire l'approvvigionamento alimentare della popolazione. Ogni anno, infatti, si perde ben l'89% dell'acqua piovana senza conservarla e distribuirla quando servirebbe ai cittadini, all'industria e all'agricoltura con una ricaduta che sarebbe importantissima sull'ambiente e sull'occupazione.